come guadagnare gratis giocatori con sorella benvenuti su mentalità milionaria io sono il vostro mentore milionario continuiamo a parlare di nft e oggi parliamo di sorella il gioco che ci permette di poter ottenere dei player dei giocatori con cui guadagnare denaro reale e quindi un po come se fosse il fantacalcio o il football manager che ci permette però di guadagnare soldi reali perché queste carte possono essere rivendute per denaro reale e le competizioni ci permettono di guadagnare carte rare e soldi il primo metodo che avete per poter guadagnare carte gratis con sorella è quello di andare ad iscrivervi a sorella dal link in basso dal link in basso avete la possibilità di registrarvi e una volta effettuata la registrazione riceverete in primis 10 carte comuni noi andiamo qui nel mercato così vi facciamo vedere un po come funziona il tutto le 10 carte comuni vi daranno la possibilità naturalmente non hanno un valore non possono essere rivendute però di partecipare alle leghe classiche ok le leghe comuni dove potete vincere delle carte rare che poi vi permetteranno o di partecipare in ulteriore leghe dove si vincerà di più e anche soldi oppure poter vendere queste carte rare l'altro aspetto fondamentale però qual è è che se voi vi registrate dal link in basso una volta che avete acquistato almeno cinque carte in edizione limitata e come potete vedere potete anche comprare carte che costano 6 euro o meno anche 3 euro e 99 quello che succede è che riceverete gratis una carta rara in edizione limitata e quindi potreste anche andare a ricevere carte dal valore di 199 200 euro a salire quindi naturalmente da questo punto di vista il consiglio che noi vi possiamo dare è oltre a ricevere queste carte gratis avete la possibilità in questo primo metodo di avere una carta rara gratuitamente gratuitamente perché dovete fare un piccolo investimento che poi ritorna indietro perché rivendete le carte che avete comprato e vendete la carta che avete sbloccato ripeto quindi significa che se io vado anche a investire il minimo ok vediamo se ci fa vedere qual è il prezzo minimo compriamo cinque carte da 47 centesimi abbiamo speso 2 ore e 50 ce ne mandano una gratis e le rivendiamo allo stesso prezzo un prezzo leggermente più alto ed ecco che abbiamo guadagnato il secondo metodo che avete per poter guadagnare gratis giocatori e denaro reale con sorer è quello di andare nella sezione gioca all'interno di questa sezione noi abbiamo diverse opportunità in primis la competizione casual dove possiamo partecipare con la semplice registrazione che abbiamo effettuato dal link in basso e con le nostre dieci carte ci dà la possibilità di partecipare gratis appunto a questa lega ogni volta che c'è una giornata calcistica vedete che qui ce ne sono spesso giornate calcistiche questa va dall 1 al 4 febbraio poi se torno indietro dal 28 all 1 febbraio dal 25 al 28 e così via quindi ogni 3 4 giorni più o meno c'è una nuova giornata quindi abbiamo sempre tante opportunità per poter vincere e andiamo nella sezione monte premi in quanto come potete vedere per quanto riguarda la lega casual abbiamo la possibilità in primis di poter ricevere anche delle carte comuni star che capite bene cosa vuol dire che se io ricevo messi o giocatori di questo valore come the light come the league o power andiamo qui niccolò barella che molti di voi conoscono ecco io ho la possibilità nella lega casual quindi la lega comune di poter aumentare le chance di finire nei primi tre in quanto una volta che finiscono i primi tre posso ricevere queste carte in edizione limitata come valverde come talavera come paoligno e così via quindi questo cosa vuol dire che queste carte posso accumularle per poi partecipare nelle altre leghe oppure rivenderle e se io torno indietro vi voglio fare vedere appunto una cosa che io potenzialmente posso poi partecipare all'edizione limitata dove mi chiedono il minimo di tre carte limitate rare cosa vuol dire questo che se io vado nella sezione monte premi e seleziono edizione limitata si sbloccano diverse leghe mentre qui ne ho solo una qua ne ho di più avendone di più cosa succede succede che poi monte premi diventano più interessanti immaginiamo l'all stars ok dove ci sono 12 mila partecipanti che non è impossibile arrivare in queste posizioni guardate qui fino a 195 io posso ricevere comunque carte rare che poi posso andare a vendere torno un attimino indietro perché immaginiamo di arrivare al primo posto ecco che io posso ricevere 140 euro e in più una star limited dal valore spropositato come bappé holland eccetera quindi qui significa fare bei guadagni questo mi permette di aumentare il valore della mia squadra e di conseguenza poi posso decidere di partecipare sempre ad altre leghe nell'edizione limitata ritorno su monte premi per vederle e quindi aumentare le chance per esempio questa under 23 è veramente un'ottima lega poi naturalmente ci sono le leghe più importanti come la rara la super rara e la unica che mi danno dei monte premi incredibili come potete vedere per esempio la lega unica che ha 22 partecipanti quindi veramente pochi mi dà la possibilità di ricevere 773 euro come guadagno del primo posto e poi una carta super rara ok quindi da questo punto di vista è una tier one super rara essenzialmente sarebbe questa qui quindi un grosso monte premi quindi diciamo che se noi vogliamo non investire nulla e scalare a mano a mano è una cosa che possiamo fare in più per terminare per finire abbiamo la possibilità di partecipare alle leghe miste ok dove qui ci dice se andiamo su gare cosa dobbiamo avere per partecipare almeno la carta limita limitata in questo caso specifico oppure possiamo partecipare al training dove alleniamo la nostra squadra e quindi aumentiamo i punteggi dei nostri giocatori e alla fine della giornata significherà che avremo più chance di poterci posizionare nei primi posti infine l'ultimo metodo ma non meno importante abbiamo la possibilità di poter invitare i nostri amici ad iscriversi gratis ripeto gratis assorer perché tutto questo può essere fatto gratuitamente a costo zero prima di spiegarvi come aumentare le chance addirittura di ricevere una carta unica e alla fine vi faccio vedere il valore di una carta unica vi ricordo se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche per supportare il canale e soprattutto lasciate un bel like al video se vi è piaciuto allora come funziona la sezione invito un amico noi possiamo invitare quanti amici vogliamo ogni amico che invitiamo che acquista cinque carte rare ok quindi acquista cinque carte in generale non rare anche in edizione limitata anche da 47 centesimi quando l'amico acquista cinque carte quello che succede è che noi otteniamo una carta in edizione limitata e il nostro amico ottiene una carta in edizione limitata quindi quando il tuo amico vincerà cinque nuove carte messi all'asta riceverete entrambi una carta in regalo ok quindi questo è il senso quindi innanzitutto ogni amico ci dà una carta in edizione limitata capite bene che può essere interessante un po per tutti e capite bene che in questa maniera con pochi amici invitati già abbiamo creato una squadra immaginate che poi la carta che andate a vincere è un grande giocatore avete fatto bingo l'altra cosa che naturalmente ci interessa un po a tutti è arrivare al trentesimo amico invitato che non è semplice ma nemmeno complicato dove essenzialmente quello che potete fare è vincere una card unica quindi dopo 29 amici al trentesimo amico che fa la stessa identica cosa riceverete una card unica sapete cosa vuol dire andiamo nella sezione card andiamo nella sezione unica ok queste sono le card uniche guardate il valore che hanno incredibile io se vado poi naturalmente nel catalogo manager e vedo le card uniche che hanno messo in vendita guardate qui vediamo qual è quella che il prezzo più alto bruno fernandez sporting lisbona un milione 172 mila euro io selu 351 mila euro per esempio uscito da poco holland ed è stato venduto perché vi ricordo che su aste per nove carte li potete comprare direttamente da sorer qui invece li comprate da catalogo manager da altri manager qui è uscito holland 700 mila euro l'hanno acquistato ora naturalmente so che sono delle cifre improponibili per molti però questo cosa vuol dire vuol dire che comunque se ricevete una carta rara immaginate di ricevere una carta unica come bruno fernandez avete cambiato vita quindi naturalmente lo vi straconsiglio di partecipare al refera al programma in basso vi ricordo trovate il link per iscrivervi dal nostro la prima cosa che dovete fare naturalmente è iniziare per iniziare cliccate sul link effettuate la registrazione inserite tutti i dati comprate 5 carte anche da 50 centesimi e riceverete la prima rara in regalo avrete 6 carte potete partecipare alle prime competizioni successivamente oltre a partecipare alle competizioni invitate i vostri amici e poi naturalmente quello che succederà è che avrete la possibilità di aumentare le chance di vincere altre carte rare e naturalmente denaro reale